... ... Prego Grazie Che curva Hai capito la colonnela? Maggi mia Signore colonnello Cilvortecce tua Che culo Stai sugli addendi Il professore Eva Russell Il dottor Lancetti, il mio braccio destro Molto onorato Molto lieto A piacere Arturo Mazzancola, il suo braccio sinistro Che luogo anche lei E per ora sono aspirante Mazzacolla? Mazzacolla, sai che devi andare a fare tu nel reparto? No, che dove va? Deve andare a fare in gulle e punture Ah, sì, le punture Ma sono interessanti visitare lui corsia Se permetti vorrei andare con lui Lei è la padrona, può fare quello che vuole Si accomodi Molto Stop Mazzacolla Che ci facciamo, i giri carazzella, disgrazia No, ti schiaccio Si calmi, si calmi, colonnello Via Via Coglionello Perché non vieni anche lei? Ma lo sai che senso di lei mi sento a disagio Va bene, se proprio insisto vengo con lei Prego Prego, dopo di lei No, niente, volevo vedere che tipo di acqua è questa E accompagnate, maledetto brigatista, disgraziato grigio verde Sì qua Ma io Io sì Prego, si accomodi Non è di bagno farlo Ma giunte State bene Venga, venga, non ha più l'ora che ci stanno fai Sì, si Sì, sì Silenzio Cosa sarebbe quest'occhiastra? Sì, Agnese, è stato in solei Cosa sarebbe? No, è giù Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì 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 Vogliamo visitare gli altri malati? Eh sì, prego professoressa, si accomodi Dio mio Eh, questo è il soldato Cannavota Se gli hanno fatto male l'ingessatura Gli hanno lasciato dentro le... Che cosa ti ha lasciato? Eh, il coso Non ha ferretto Gli hanno stretto il coso? Non ho capito La minchia! Eh E chi è stato? Chi è questo il cazzetto? Io Ah, sì, sono stato io Poi le racconto Oh, io è surdo Bisogna liberarlo subito Eh sì Oh, poveri Ma no Oh, che muscoli È un bravo ragazza Ha bisogno di affetto Eh sì Che bello, che bello Eccolo Questa è la sua cartella clinica, vero? Oh, dolore Come si sente? Chi ha parlato? Dove senti dolore? Oh, oh Oh, connello Oh, connello Che cosa è successo? Eh, niente Sto cercando di vedere questo il ginocchio Ah, sì Come va? Eh, tre Trenta tre Trenta tre Trenta tre Trenta tre Senti, colonnello Colonnello, guardi Qui è scritto che dopo l'operazione Lui ha avuto un blocco intestinale Eh, sì E appunto Avendo l'indestino, diciamo, leggermente spostato Guarda il ginocchio Ha bisogno, come si dice in italiano? Di un 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 Enema L'enema Ah, l'anima Sì, l'anima dell'anima del Il cristere vuol dire No, che la mia coscienza di siciliano mi impedisce di essere manomesso e magari violentato Da un fetusissimo Sargente Tu, si faccia un clisterino che fa tanto, tanto bene alla sua salute No, il clisterino me lo voglio fare Senti un po', e che diresti se fosse fatto da mani femminili? Mano di femmina non porta di sonore Va bene, bravissimo Sì, sì Sorella 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 Che dolore Provide lei per cortesia Se il colonnello permette lo sistemo io Prego, prego Adesso ti sistemo io Non lo voglio scendere 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 Il corpo medico è molto preparato qui in Italia Eh, sì Oh, questo è il vostro operating theater? Beh, più che teatro è un cinema della luce rossa, diciamo Tutti i pazienti stanno nudi qua sotto Very functional indeed Mi piace Ah, bello, dice l'ambiente Sì Beh, lei parla così perché non deve essere operata, ma Lei crede? Eh? Se dovesse essere operata da lei Mi piacerebbe molto Beh, carità, signorina Scendere di buona salute Lei sta Sta tanto bene così? Io non avrei la minima paura Anzi, credo che sarebbe piacevole Sarebbe come donarmi il suo talento In piena fiducia Veramente? Sì In ogni momento potrebbe fare di me Quello che vuole Ma in tutti i sensi Sì Veramente Anche a me piacerebbe molto Perché, insomma, io all'egge Che facciamo? Mi fa Sì Mi giro la camera Ah, 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 l'altro si non possa credere Mi fa No perché in questo momento non sono preparato psicologicamente Sì, sì Ma che succede qua dentro? Che c'è? Ah, leggo l'onnello Eh sì, la signorina mi stava facendo vedere Veramente, io stavo facendo vedere A professor Russell Professore, la che era a sua orfugenza La nostra cacacacacca, caposala Oh, Dio Lo sa che è un chirurgo famosissimo la signorina Ah, sì, eh Devo dire Che lei è bellissima Sapesse Da giovane anch'io ero bella come lei Adesso il dottor Langetti la accompagna a casa E noi ci vediamo fra un paio d'ora Va bene Professor Russell Buongiorno Prego Mi raccomando Non faccio tardi anche oggi No Ciao Ciao Ragetti, ricordati la Maddalena, eh Ragetti, l'isola della Maddalena Au